Mesi e mesi di speculazioni svaniscono tutti oggi, mentre facciamo ritorno alle competizioni ufficiali per l'evento d'apertura odierno che spiernerà la strada a una stagione esaltante. Benvenuti allora al primo appuntamento del campionato mondiale Formula 1 di quest'anno. Oggi si gareggia sui 5 km 4 del magnifico circuito internazionale del Bahrain con 15 curve e due ottimi punti di sorpasso alla 1 e alla 4. Attenzione a curva 10, la frenata è molto delicata. Prima di partire guardiamo la griglia della gara di oggi dopo le fantastiche qualifiche di Dier. Il Ducca si posiziona in pole position accanto a Lando Norris che scatterà dalla P2 per quanto riguarda il resto della griglia. Leclerc, Russell, Lewis Hamilton e Verstappen, Ricciardo, Fernando Alonso, Behrens e Esteban Ocon, Gasly, Bottas, Gary Magnussen e Zunoda, Mick Schumacher, Albon, Sebastian Vetter e Lance Stroll, Zunoda, Zunoda e Nicolás Latifi, chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Siamo dunque alla nuova stagione, una tavola rasa in cui tutto può succedere. Malsecchi, oggi è con me ad assistere all'inizio di un nuovo anno di Formula 1. Pochi istanti ci separano dalla prima gara. Tutti sono tesi e lo credo bene. La prima mette sempre dura prova i nervi dei piloti e delle scuderie. Le auto sono fresche di fabbrica e l'affidabilità delle stesse è attestata proprio oggi. Quello che ci auguriamo è che nessuno incappi in guasti di vario tipo. E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele Pecabonara. Questa è la ventitresima puntata della carriera di Formula 1 2022. Stavolta ci troviamo in Ferrari, in Bahrain e ci troviamo in Pole Position. Secondo, l'anno 9, il terzo Charles Eclat, il predestinato o predestigato. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Non perdiamo altro tempo e iniziamo con lo Gran Premio. Sì, notori. Via, 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 via. Via, 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 via. Attenzione. Wow. Non ci credo, che partenza! Vai così, vai così, vai così Vai, vai, vai Vai, vai Vai Mamma mia Attenzione, non rissa, attaccato Occhio, non rissa Vai, vai Vai, vai Vai, vai Buono Ok Primo giro completato Giro veloce Attenzione Intanto le Klerk, Russell, Norris e Gastappen lottano per il secondo corso Anzi no, le Klerk la sono andate E ora è secondo Lungo Vai così Vai, vai, vai Vai Lungo Lungo Comunque la curva 10 è molto difficile da fare, vero? È vero Intanto Le Klerk sta lottando contro George Russell È buono Così possiamo perdere No, sì, così possiamo perdere tanto Infatti Siamo andate le 2 e 4 secondi Vai, vai Vai, vai Spendiamo di fare il giro veloce 1,31, 378 Un giro veloce Di Gabriele Piotrana Vai così Uh Spendiamo di fare il giro veloce Spendiamo di fare il giro veloce Ma uno è in serio Vai così Dai, dai, dai Forse riuscirò a fare Forse riesco a fare un altro giro veloce Vabbè Per ora stiamo buoni Uh Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh 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 Bellissimo Vai 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 così Vai così Vai così Vai così Brassel Uh Vai Giro veloce 1,30, 5,21 per me Bravo, George Vai così Uh Vai così Questa è la seconda Terza è la quarta Quarta è la quarta Quarta è la quarta Oh Oh No Lungo Mi trago La quarta Adesso torniamo la quarta Oh No No Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci credo Non ci credo Oh Oh Non ci credo Mamma mia Adesso Mi deve essere Calma 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 Che gara Le Verstappen Non è il secondo No Non ci credo Mamma mia Un Lungo Ma Non ci credo Le Verstappen Non ci credo Che il futuro Dei Ma Terza E 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 L'ha spinto qualcuno fuori Che è stato Non ci sa Grande Grande Calgri Sì Sì Oh Occhio Che ce l'ha stato Che no Se l'ha incollato dietro No No Vai vai Ti arresto Ti arresto E Non c'è Non ci credo Non ci credo Va bene Vai va bene Non ci credo Va bene così Le Verstappen Vincendo La Premio Per la Reina Infatti La Stampe Le Prode Del Giorno Che Gagli Ha dimostrato Un ottimo Gioco Di Suono Davvero Braga Peccato 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 Vabbè Il mondiale Ancora Lungo Abbiamo Tante possibilità Di vincere Quindi Stava bene Un'occhiata La Classifica Tremondiale Lo so 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 Comunque Spero Che questo Video Vi sia Vi piaciuto Lasciate Almeno 10 Like Per il posto Iscrivetevi al canale Perché il prossimo Appuntamento Oso Per lo Script Ciao Ciao Ciao